È un ciclo di tre appuntamenti di carattere informativo divulgativo sulla materia legale, offerto, organizzato, proposto e anche condotto dalle nostre avvocate, che ricordo sono le Avvocate di Diritti al Centro, che è un'associazione nata ormai un paio di anni fa, proprio per servire, diciamo, offrire lo sportello di prima consulenza legale gratuita qui al Pari Centro. Io voglio cogliere l'occasione per ringraziarle, sono partite da 4-5 avvocate, sono arrivate a 9, ricordo che il loro impegno è un impegno volontario e gratuito e questo è il primo sportello, quello di carattere appunto di consulenza legale gratuita, aperto al Pari Centro, quindi abbiamo aperto, inaugurato con questa attività. Oltre a fare un servizio di consulenza gratuita all'interno del Pari Centro tutti i lunedì pomeriggi, abbiamo voluto anche organizzare questi incontri a titolo informativo. Sono tre incontri con delle tematiche, secondo noi, molto importanti. La prima che riguarda le relazioni disfunzionali che avremo lunedì 29 maggio alle 18, presso il Pari Centro, con il compito di far capire ai cittadini che possono essere i segnali di pericolo sia in ambito di una coppia ma anche in ambito lavorativo, in ambito di vicinato, quindi che possono comunque dare e mettere in allarme le persone su quelle che possono essere le disfunzionalità. Poi il secondo incontro, secondo me, altrettanto importante, che ho pensato proprio a tutela in modo particolare degli anziani, ma non solo, soprattutto le persone che hanno delle difficoltà fisiche o anche intellettuali, anche appunto di intelletto, che è l'amministrazione di sostegno, perché sono gli elementi costitutivi di questo tipo di istituto, ci accorgiamo che è di grande utilità e non, diciamo, riduce quelle che sono le capacità di intendere e di volere o anche i poteri del sindaco. Poi abbiamo l'ultimo, che secondo me è importantissimo, che sono tutti quelli che sono i diritti, i doveri in una relazione, in una coppia di fatto, che abbraccia copie di ogni genere e sesso e quindi anche i diritti che abbiamo nei confronti del nostro compagno o della nostra compagna in relazione a quelli che sono tutti gli istituti, dall'affitto in caso di necessità, quindi ad esempio in caso di malattia, che diritto ha il compagno di poter intervenire e decidere sulle persone, sui diritti a livello anche pensionistico, eccetera. Quindi volevamo dare proprio un'informazione, un aiuto per poter superare in determinati casi questo tipo di situazioni ed eventi.